Allora Giserini ha le musiche Grazie per l'incente Grazie a Pilarmonica Mascani che ci ha dato lo spazio e grazie ad Alessandra Mastroleo e al suo padre che hanno intercesso per questa cosa Grazie a Mastroleo per la Lucandina e grazie all'Accademia La Ponte che ci ha prestato lo specchio è riconoscibile e grazie a voi di essere venuti